Ecco, dopo che abbiamo ripulito gran parte del costito, vedete come qui era tutto pieno di frasche e questi sono gli olivi che stiamo spottando, ormai da più di due mesi il costito l'abbiamo pulito fin sopra e dopo averlo ripulito qui era veramente una foresta di spine, di rovi ora bruciamo un po' alla volta si intende, abbiamo l'acqua vicino qua della fonte ma attorno è tutto pulito non c'è pericolo di incendio questa è la valle di Sant'Angelo vedete quell'altro oliveto laggiù che pure del brigante del sud andò quanti minuti sta roba a casa? se sei? si si se sei non è pericoloso? no è sta pulito qua noi stiamo impiantando un'azienda agricola su quelle montagne abita Patrizia Stefanelli l'attrice che abbiamo potuto applaudire durante il convegno con Domenico Offi a Scauri lì abita la sorella di Hortensia de Cesare questa è una chiesa costruita quella di Sant'Angelo dei Marsi costruita su una villa su un tempio romano e questa che vedete è la casa di Martumè che era un pronipote del partigiano Martumè quella che vediamo lassù è l'ultima strada dei Borboni doveva essere di collegamento tra Gaeta e la fortezza Essora praticamente ma a causa dell'assedio di Gaeta del 1860-61 si è sospesa e non si è fatta più